Paolo Bonolis è intervenuto sui social su Vasco Rossi. Tempo fa lo ha intervistato e si fa sempre la stessa domanda. Come mai seguono tanto Vasco Rossi? Ciao Vasco, ho avuto la fortuna di condurre per la televisione italiana l'immenso concerto di Modena Park, ti ricordi no? Nonché la possibilità di intervistarti per oltre un'ora. Però alla domanda che spesso mi capita venga fatta perché piace Vasco? Io non so rispondere. Ha proprio ragione Paolo Bonolis. Perché piace tanto Vasco Rossi? Se vi fermate a pensare un attimino non vi saprete nemmeno voi dare una risposta. Isaiah Jacques Chau Grazie a tutti.